Ciao cari amici, spesso io leggo nei commenti di molte persone che seguono la mia pagina qua su YouTube, ma anche su altri social vedo che molte persone sono interessate a sapere, a capire la fase storica nella quale noi stiamo vivendo, che cos'è questa situazione, dove stiamo andando, cosa sarà nel futuro, ci sono tantissime diverse previsioni, ci sono diversi analisti che spiegano questo nostro momento, questo nostro percorso storico in modo diverso. Le opinioni davvero sono molto disparate tra di loro e questo ovviamente dipende anche dal fattore propagandistico, dal fattore di appartenenza a una certa linea obiettiva o meno obiettiva della narrazione. Ci sono analisti, specialisti, ci sono interi istituti cari amici che lavorano sulla interpretazione di geopolitica non per informare i cittadini, non per informare le masse, ma per lanciare nello spazio interattivo, per lanciare nel dibattito comune dei messaggi mirati a, in qualche modo, modulare l'opinione pubblica, e con questo creare i presupposti per portare avanti e per applicare certi progetti. Vi faccio un esempio, perché qualcuno vi dice, Nicola, di cosa stai parlando, stai usando le parole complicate, oppure stai facendo tutto un giro di parole e noi non capiamo il senso. Il senso è questo, cari amici, è che noi siamo di fronte a una situazione dove spesso le varie analisi non servono per farvi realmente capire la situazione in cui state vivendo, ma per prepararvi a degli scenari che i padroni di questo mondo stanno portando avanti nei propri interessi. E quindi molte persone, ad esempio, vanno a seguire un analista, un esperto, oppure un'organizzazione come ad esempio un istituto di ricerca, un gruppo di ricerca, un think tank, come si chiama questa aggregazione dei pensatori, degli analisti, propagandisti nel segmento politico, militare occidentale, oppure qualche gruppo di ricerca scientifico, come ad esempio ci sono in Russia, diversi gruppi di ricerca che sono legati alle accademie, oppure alle università. Anche noi in Occidente abbiamo diverse organizzazioni simili, la gran parte dei quali sono purtroppo fasulle, ad esempio voi ricordate che appena è iniziata la guerra in Ucraina, cioè appena Vladimir Putin ha dichiarato l'operazione militare speciale, quindi la Russia è entrata sul territorio dell'Ucraina ufficialmente, prima non è che non c'era la guerra, la guerra è iniziata nel 2014, andava avanti serenamente fino a 2022 con l'appoggio dell'Occidente agli Ucra nazisti che sterminavano la popolazione del Donbass, solo che la gran parte del mondo occidentale cercava di non badare di questa situazione, dicevano ma sì ma chi se ne frega, tanto questa cosa è lontana, tanto non ci tocca, tanto chi se ne frega. Vedete, se fosse più attiva la massa dei cittadini in Occidente sarebbe stato possibile influenzare la politica occidentale, bloccare quel conflitto all'epoca quando i russi non erano ancora intervenuti sul territorio dell'Ucraina ufficialmente e potevamo evitare tantissimi guai, potevamo evitare anche tantissime spese, potevamo evitare il pericolo della guerra nucleare che stiamo vivendo adesso, potevamo evitare il coinvolgimento della Nato che stiamo vivendo adesso, potevamo evitare il rischio di alla fine trasformare la collettività occidentale in un modello che è stato applicato in Ucraina, ciò che noi stiamo per vivere, perché cari amici io per l'ennesima volta vorrei sottolineare perché qua vedo che non molti mi capiscono, non molti comprendono il senso dei miei video, ma quando io vi dico nei miei video, amici fate attenzione, ciò che voi vedete in Ucraina è un modello di gestione di uno Stato che verrà amplificato e applicato sul territorio dell'Unione Europea. Io vi dicevo ancora nel 2015, quando io con mio buonanima amico Giulietto Chiesa stavamo organizzando diversi giri in Italia e parlavamo del problema e del pericolo della guerra in Ucraina, perché lo facevamo? Perché Giulietto che aveva sicuramente tante cose da fare, una persona che aveva tantissimi interessi, era occupato di molte cose importanti, perché lui improvvisamente ha mollato tutto e ha dedicato un'importante parte della propria vita, del proprio tempo, al lavoro di comunicazione con la società nel quale viveva. Perché lui ha iniziato a dare questi messaggi ai propri concittadini italiani? Non perché non aveva niente da fare, anzi lui aveva tante cose da fare, scrivere libri, fare le sue bellissime indagini giornalistiche. Lui si è occupato del problema ucraino, perché così come anche ho fatto io, ha visto in ciò che stava accadendo in Ucraina l'inizio di creazione di un nuovo modello. E questa, cari amici, è la cosa più importante di cui oggi dobbiamo parlare. In Ucraina si è creato un nuovo modello della gestione della società. Ciò che l'oligarchia anglosassone faceva prima era diverso. Da qualche parte c'era semplicemente proxy war, cioè la guerra per procura. Da qualche parte loro hanno cercato di mettere i governanti fantocci e fare accordo con i signori della guerra, finanziare la guerra tramite utilizzo illecito di traffico di droga e così via. Queste sono cose diverse. In Ucraina, per la prima volta, loro hanno creato un vero e proprio modello di gestione della società con un senso autodistruttivo per stessa società, utilizzando le basi legali. Ovvero, prima hanno fatto un colpo di Stato, certo, è una cosa illegale. Hanno cancellato la Costituzione, hanno distrutto tutti gli istituti del potere, ma poi dopo loro hanno iniziato a applicare le proprie tecnologie politiche attraverso le basi spacciate per legali. Non c'era più bisogno di mettersi d'accordo di nascosto con i signori della guerra, assolutamente no. Si comunicava direttamente attraverso la bocca del presidente dell'Ucraina che l'Ucraina manda l'esercito a massacrare il proprio popolo nel Donbass, perché nel Donbass l'Ucraina non combatteva contro i cittadini russi. Sì, c'erano tanti cittadini in Ucraina con doppie cittadinanze, per questo alla fine i russi sono intervenuti, ma originalmente loro hanno massacrato propri cittadini, cittadini ucraini, che non erano d'accordo con com'è andata la storia con il colpo di Stato. Questo nuovo modello della società serve agli oligarchi occidentali per sperimentare la gestione dell'intero occidente, dell'intera sfera del dominio. E in Ucraina l'hanno applicato per vedere come le masse reagiscono, per vedere come sarà possibile di applicare attraverso propaganda una visione distorta di ciò che sta succedendo in Ucraina nell'ambiente occidentale, per, se volete, una metafora per abituare gli schiavi alle catene e alle fruste, e anzi convincerli che catene e le fruste sono necessari. Oggi noi viviamo in Europa, l'Ucraina si trova sul territorio europeo, non dell'Unione Europea, ma sul territorio geografico europeo, vuole entrare in Unione Europea nella Nato, tutti blatterano di questa cosa, specialisti, esperti e così via, ma nessuno si sofferma a riflettere seriamente sul fatto che in Ucraina da quasi due anni sono sospesi i diritti umani. Nessuno si sofferma a pensare che in Ucraina il presidente attuale è scaduto da parecchio tempo e ufficialmente non rappresenta più, dal punto di vista costituzionale, nessun potere. Nessuno si sofferma a pensare che in Ucraina il regime brutale sta catturando le persone per strada, le sta massacrando e le sta mandando in prima linea a morire contro i loro interessi. Nessuno si sta soffermando a pensare sul fatto che l'Ucraina attualmente è il paese più corrotto del mondo, è la corruzione fatta Stato. Perché nessuno si sofferma a pensare? Perché cari amici, nel nostro paese ci sono vari think tank, associazioni, organizzazioni, istituti di ricerca creati appositamente, che sono nomi, due rappresentanti e un'attività virtuale, che non hanno una vera e propria sede neanche. Però sono, spesso finiscono in tv e quando iniziate questa guerra, se voi ricordate, sono apparsi subito tantissimi specialisti, dirittrice, dirittore, ricercatore di questa università, di questo istituto, di questo think tank, di così via. E hanno cominciato subito a raccontarvi una marrea di informazione propagandistica molto pericolosa. Hanno convinto gli occidentali innanzitutto che è possibile vincere la guerra contro la Russia, ciò che dall'inizio era impossibile, sbagliato, però loro l'hanno fatto. E questo ha servito per i padroni dell'Occidente, per gli anglosassoni, per vedere come le masse stanno affrontando questo bombardamento con l'informazione falsa. Alla fine ha funzionato. Le masse non hanno reagito, le masse anche in parte hanno sostenuto la guerra contro la Russia, seriamente credendo che si può vincere sul campo di battaglia contro la Russia. Io mi ricordo quei tempi quando andavo in tv, quando stavo ancora in Italia, e ancora mi invitavano in televisione. Io andavo lì ed ero presente in studio e c'erano queste persone e ovviamente dietro le quinte tra di noi si parlava, si scambiavano le parole. Io dicevo, ma perdonate, ma voi veramente credete, veramente credete che si può vincere la guerra contro la Russia? Cioè noi adesso stiamo parlando di la guerra contro un paese che ha un'illimitata quantità di risorse naturali e la capacità straordinaria industriale di trasformare queste risorse nelle armi da guerra. Tra l'altro a basso costo perché hanno un sistema di gestione del impianto bellico non privato ma statale. E voi veramente mi volete convincere che l'Occidente vincerà la guerra contro la Russia? E dietro le quinte questa gente abbassava gli occhi, faceva finta di scrivere qualcosa nel suo, a prendere appunti nel suo blocco notte, oppure mi rispondevano con qualche loro tentativo di aggrapparsi sugli specchi ma il problema è che poi durante le riprese a me mi chiudevano la bocca non mi lasciavano parlare mi toglievano la parola mi insultavano mi parlavano sopra facevano di tutto per zettirmi. Loro invece quando parlavano sembrava Gesù durante Pasqua cioè questi veramente avevano davanti tutto il pubblico e pontificavano lì con chiaramente le tesi degradanti degradanti tipo quella che più volte ha espresso nostro Draghi dicendo che ah ma la Russia perderà perché noi abbiamo fatto le sanzioni smetteremo di mandare da loro mozzarella scarpe e altri due tre prodotti italiani e vedrete come loro moriranno arriveranno a quattro zampe a chiedere il perdono ciò non è avvenuto io altro giorno cari amici ho guardato a questo proposito un'interessante intervista che cari amici fece la una giornalista inglese britannica al a un funzionario russo lui è ah no lui non è vice lui è il ambasciatore eccola qua l'intervista l'ho trovata in pratica lui è ambasciatore in Gran Bretagna perdonatemi volevo leggervi questa intervista perché io l'ho tradotta e l'ho pubblicato sul mio canale privato telegram impressionante per la distanza divergenza delle visioni del mondo in pratica questa intervista è un'intervista che è giornalista della BBC ha fatto a Andrej Kelen che è un ambasciatore russo in Gran Bretagna è un'intervista lunga io vi consiglio di vederla tutta io comunque sul mio canale a privato telegram ho pubblicato questa parte ho tradotto questa parte dove in pratica questo signore questo ambasciatore russo con tutta una faccina da da un da un pensionato russo come la con quale garbo con quale pacatezza asfalta questa propagandista isterica tra l'altro perché questa ha fatto un paio di uscite proprio lo ha anche provato di offendere personalmente e lui le risponde con un garbo con rispetto perché innanzitutto questa è una donna è chiaro che a una donna bisogna rispondere a prescindere comunque sempre con educazione e e lei dice a lui il vostro paese sta soffrendo a causa di questo conflitto non è così ma per questo conflitto non c'è una breve fine in vista e dice forse essere qui a Londra in questo ambiente chic vi ha fatto sentire disconnesso dalla realtà cioè la giornalista inglese britannica ha accusato l'ambasciatore russo di non sapere quello che succede nel suo paese perché lui sta a Londra dove questa tizia pensa che è il massimo del mondo l'ambiente chic una cloaca a mio avviso la Londra e purtroppo anche la Gran Britannia intera era un bel paese una volta adesso è stato trasformato in una vera e propria cloaca comunque questi ancora hanno queste idee che loro lì vivono in un ambiente chic non hanno ancora scoperto cosa vuol dire bidet che cosa serve ma loro comunque si sentono super diciamo migliori rispetto al resto del mondo e sentite cosa le ha risposto in maniera pacata serena diplomatico russo ambasciatore russo in Gran Bretagna lui dice ma in realtà recentemente sono tornato a casa mia diverse volte e non ho visto alcun declino lì al contrario a proposito qualsiasi giornalista che vorrebbe andarci può farlo e può vederlo da solo anche voi stessa non c'è nessun declino l'economia si è ripresa e alla fine dello scorso anno ha mostrato una crescita e continua a crescere in ogni caso cresce più veloce dell'economia del G7 o dell'Unione Europea insieme adesso russi in Russia siamo tra i primi dieci paesi in termini di volume di produzione a proposito abbiamo preso il vostro posto che era il settimo e la Gran Britannia invece è stata buttata fuori da questa top ten quindi cari amici ha sfaltato in maniera veramente gentile ma spietata questa propagandista britannica questo cari amici è ciò che io chiamo allontanarsi dalla realtà oggettiva a tal punto che inizia a credere a ciò che dici cioè come il nostro Draghi ci ha raccontato per talmente tante volte che la Russia crollerà che alla fine probabilmente poveretto pure lui ha iniziato a credere in questa cosa e anche tanti di quelli che lo ascoltavano ma la realtà cari amici è ben diversa e quindi in questa situazione quando noi abbiamo un mondo così complesso quando abbiamo le opinioni così divergenti quando abbiamo questi vari esperti istituti che pubblicano le loro ricerche e noi non capiamo a chi credere cosa fare ovviamente c'è una domanda e molti di voi io vedo nei vostri commenti sollevano questa domanda spesso cosa succederà in che realtà stiamo vivendo dove stiamo andando quale sarà il breve futuro e qua cari amici io vorrei attirare la vostra attenzione a una riflessione che vi invito di approfondire a casa vostra in maniera serena tranquilla informandovi ampiamente perché ciò che ci dà la possibilità di capire meglio la situazione circostante cari amici è un approfondimento abbastanza lento e produttivo smettete di credere che i brevi video di tre minuti su su instagram o qua su youtube vi apriranno la mente e vi aiuteranno a capire le cose in 20 minuti in mezz'ora impossibile spiegare grandi cose essenziali si può dare solo degli indirizzi poi se volete approfondire ci sono i libri non bisogna mai smettere i libri è il problema che oggi nei social ai giovani insegnano il contrario e quindi i giovani oggi sono più meno scusatemi sono meno difesi di fronte alla propaganda perché hanno smesso di leggere quindi non si nutrano con vera informazione loro sono pieni di queste idee fasulle create da questa specie di informazione iniettata con social e alla fine non sono più in grado di distinguere la falsità dalla realtà e per questo con loro funzionano vari questi specialisti finti esperti accademici e così via che in occidente con l'inizio dell'operazione militare speciale sono apparse come funghi dopo la pioggia prima non si capiva di che cosa cosa facevano di che cosa si occupavano non si leggevano i loro articoli da nessuna parte e qua improvvisamente sono apparse con dei titoloni direttore dell'istituto tale e quale il il professore della ricerca insomma amici il problema principale che noi stiamo vivendo su attuale in attuale periodo è legato al fatto che sta cambiando l'equilibrio del mondo e non c'è ancora un vero scontro persone sbagliano pensando che noi viviamo l'epoca di scontro no quello che sta succedendo in Ucraina cari amici è solo l'inizio diciamo è il momento iniziale di posizionamento sulla scacchiera geopolitica di nuovo posizionamento delle forze dal punto di vista dell'oligarchia occidentale loro stanno sperimentando una nuova forma una nuova struttura della gestione della società quindi loro in Ucraina stanno sperimentando quel modello che poi sarà applicato su tutta l'Europa occidentale per questo vi dico amici ricordate le mie parole se questa situazione non cambierà radicalmente se l'occidente non apre gli occhi se la società occidentale improvvisamente non scopra di avere gli attributi di essere cosciente di avere la capacità di interagire collettivamente ciò che succede in Ucraina sarà esportato in occidente e non mi dite che in occidente non succederà mai che in occidente questa cosa è impossibile perché voi siete democratici liberi e così via ricordate quello che con voi hanno fatto durante la pandemia ricordate quello che con voi hanno fatto durante i diversi truffe elettorali ricordate quello che hanno fatto con voi durante le proteste di massa contro le guerre contro le violenze contro certi situazioni politiche certe situazioni che ovviamente erano antisociali antipopolari e questo è solo l'inizio arriverà il momento tra 5 10 anni quando anche sul territorio dei paesi dell'Unione Europea attuale gireranno le squadre di polizia e di militari cattureranno i cittadini dei paesi dell'Unione Europea che saranno già privati di loro diritti umani primari come è già successo in Ucraina quasi due anni fa con decreto presidenziale presidenziale spiegheranno spiegheranno per me per me Gaber è il massimo io amo quel modo di cantare e interagire con il pubblico che era ancora legato al teatro Gaber era anche un po' teatrale così come anche grandissima Gabriella Ferri io adoro Gabriella Ferri perdonatemi se tocco questi argomenti ma un po' per smussare le angole diciamo per sdramatizzare la situazione ecco Gaber in una delle sue canzoni ha detto una frase che a mio avviso ogni italiano se la deve tatuare sua fronte e leggerla ogni mattina quando va al lavoro quando va esce per strada scriveva la giustizia universale non passa per le case e la strada è la tua unica salvezza cioè noi abbiamo disimparato di essere uniti realmente siamo sempre meno presenti nelle piazze nelle aggregazioni siamo tutti sui telefonini online domani vi spengono internet vi spengono energia elettrica e siete rovinati siete distrutti e nessuno può fare niente nessuno può interagire quindi cari amici ciò che succede adesso in Ucraina è il modello ucraino è il modello che sarà applicato tra 5 e 10 anni su tutto il territorio dell'Unione Europea preparatevi a questo non sperate che sarà che migliorerà qualcosa niente migliorerà senza il vostro impegno attivo se ognuno di voi continuerà a diciamo stare in disparte questa macchina andrà avanti la macchina dell'ulgarchia accartoccia questa Europa come come niente fosse e quindi cari amici noi stiamo andando verso un conflitto più grande più importante se voi pensate che conflitto in Ucraina è il conflitto è la guerra no in Ucraina non è la guerra dal punto di vista geopolitico infatti Putin non sbaglia quando chiama ciò che succede in Ucraina l'operazione militare speciale perché lui vedete Putin è molto chiaro in questo ed ha anche un messaggio molto importante all'Occidente lui dice ragazzi questa non è ancora guerra voi non avete capito la guerra ci sarà e in quella grande guerra il materiale da bruciare nel focolare della guerra nel fuoco della guerra sarete voi cittadini occidentali non arriveranno extraterrestri non arriveranno persone provenienti da altra società a fare questa guerra per voi sarete voi a farla per l'interesse dei vostri padroni anglosassoni questi sono messaggi che Putin dà all'Occidente da sempre a partire dal 2007 da quando ha fatto il suo famoso discorso a Monaco comunque amici entro 2030 sicuramente se non cambia drasticamente qualcosa nell'Occidente dal basso noi arriveremo a uno scontro o globale o come minimo continentale uno scontro continentale è possibile sul territorio dell'Europa se la Nato continuerà a fare ciò che sta facendo tanti mi dicono Nicolai stai raccontando le balle sei propagandista di Putin non è vero amici io non sto parlando immaginando le cose io sto parlando analizzando ciò che è già reale ciò che già sta succedendo analizzate le esercitazioni della Nato degli ultimi due anni tutte le esercitazioni della Nato dalla prima all'ultima dalla prima all'ultima sono gli studi e preparazioni per una futura guerra aggressiva contro la Russia guardate l'esercitazione della logistica della Nato sul territorio dell'Europa la logistica formata in questo modo non si fa durante le operazioni di difesa la logistica che la Nato ha fatto nell'ultimo addestramento che ha fatto quest'anno è la logistica che si fa in appoggio ai riparti in avanzata quindi si tratta di una guerra offensiva loro vogliono sfondare i confini e invadere la Russia non è come dicono a voi cattivo Putin vuole invadere l'Occidente ma Putin se ne sbatte dell'Occidente ma chi se ne frega se non volete collaborare con la Russia ma statevene nel vostro mondo lasciate stare lasciateci vivere però non puntate i vostri missili non fate terrorismo noi vogliamo vivere sereni e tranquilli questo è il senso dei russi però ciò che sta facendo la Nato è prepararsi a una grande guerra le coscrizioni i movimenti all'interno dei bilanci dei paesi la crescita della spesa militare la crescita degli investimenti nell'industria bellica tutto dimostra che l'Occidente si prepara a una grande guerra e sottolineo se non cambia niente dal basso all'interno dei paesi dell'Unione Europea e dell'Occidente negli Stati Uniti d'America oppure nella Gran Bretagna questa guerra si farà i russi sono pronti e vi dico di più questa guerra durerà questa volta parecchio tempo probabilmente sarà distruttiva per tutti se si arriverà a utilizzare le armi nucleari sarà fine del mondo se invece entrambi parti rimarranno abbastanza equilibrati da utilizzare solo le armi tattiche e strategiche non nucleari allora vinceranno i russi comunque l'Occidente non può vincere non ce la farà per motivi matematici non riusciranno mai a produrre tanto materiale da impegnare in una guerra di invasione la guerra di invasione deve partire cari amici partire con superiorità numerica 10 a 1 già questa superiorità l'Occidente non ce l'ha nei confronti dei russi inoltre le russi stanno aumentando la produzione il loro esercito adesso viene considerato più professionale più pronto del mondo e la russia ha fatto importanti accordi strategici con diversi alleati secondo voi quando inizierà una guerra su larga scala contro la russia la cina la corea del nord e altri paesi e altri paesi anche di medio oriente rimarranno in disparte secondo voi questi paesi staranno lì ad aspettare quando l'occidente vincerà contro la russia no cari amici questa volta il mondo multipolare sarà unito contro l'occidente e questo sarà uno scontro tra due grandi sistemi uno scontro continentale perché la guerra sarà svolta sul continente euroasiatico sulla sua parte europea questo sarà molto utile per gli americani perché stati uniti d'america non saranno presenti per l'ennesima volta fisicamente in questa guerra non saranno coinvolti legalmente in questa guerra staranno sempre dietro alle quinte ovviamente con soldi armi restituiranno enormi soldi enorme quantità di denaro alla propria macchina di produzione bellica e quindi sistemeranno il proprio sistema economico perché adesso sono in stagnazione ma si solleveranno come sempre lo fanno grazie alle guerre ma noi non dobbiamo assolutamente aspettare nessun futuro roseo se ripeto e sottolineo se non ci saranno cambiamenti da parte dei paesi occidentali se gli occidentali non smetteranno di seguire la follia degli anglosassoni se gli occidentali continueranno ad alimentare questo sistema criminale che si chiama la NATO amici ricordate le mie parole 2030 inizierà un grande scontro continentale su larga scala e lì vedrete che cos'è una vera grande distruttiva guerra perché ciò che adesso succede in Ucraina si può dire è una scaramuccia locale rispetto a quello che noi vedremo con l'inizio di una grande guerra continentale mi dispiace di dirvi così queste cose ma vedo che molti di voi si interessano approfondiscono e si domandano e quindi ci terrei di condividere con voi questa riflessione per invitarvi a continuare ad informarvi continuare a riflettere e anche magari nel vostro caso ognuno di voi potrà prendere personalmente dei provvedimenti in qualche modo cercare di difendersi da questi brutti scenari verso quale stiamo andando tutti insieme amici con questo vi saluto come sempre alla fine dei miei video cerco di invitarvi di informarvi in maniera obiettiva e coerente su ciò che succede non solo in guerra in Ucraina ma anche nella geopolitica in generale sul mio canale privato Telegram come sapete io condivido le notizie che di solito vengono nascoste censurate oppure strumentalizzate dal nostro mainstream occidentale corrotto se volete seguirmi sul mio canale privato Telegram il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su questo canale YouTube come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti e per le vostre donazioni tutto questo è molto importante per me per il mio lavoro su questa piattaforma online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene e vi voglio bene e vi voglio bene vi voglio bene